benvenuti alle nostre incursioni circensi oggi proveremo a fare 50 squat di seguito mi raccomando per gli squat ricordarsi gambe leggermente aperte non troppo scendere bene col busto dritto stringere gli addominali per tutta la durata dell'esercizio e via grazie per aver affrontato questa incursione circensi ci vediamo la prossima settimana